Il comune di Pordenone ha deciso di potenziare la presenza della polizia locale in piazza Risorgimento, zona sensibile della città. Sindaco, controllo diciamo rafforzato per piazza Risorgimento. Il controllo su questa piazza non è mai venuto meno, tant'è vero che anche nel recente passato, per non parlare degli anni scorsi, siamo intervenuti anche con mano pesante, sia dal punto di vista sanzionatorio, anche con misure più incisive, che hanno portato anche alla chiusura di alcune attività di chi si comportava male, di chi non gode bene della possibilità di avere questa piazza, che è una piazza molto bella. Dall'altro lato dobbiamo essere attenti a quelle che sono le richieste dei residenti, che in questo momento, a causa anche di alcuni episodi poco edificanti, capitate nelle ultime settimane, chiedono maggior controllo, maggior controllo per loro, maggior controllo per i commercianti e soprattutto maggior controllo per consentire, ripeto, di godere di questa piazza. Quando ci siamo insediati come amministrazione abbiamo sempre cercato di monitorare il territorio, intervenire a seconda delle esigenze, ove necessario. In questo momento Piazza Risorgimento è una delle piazze più frequentate, quindi in questo modo cerchiamo di monitorare, garantendo a chi vuole vivere la città in sicurezza, in tranquillità di poterlo fare e magari con un occhio in più anche cercare di tranquillizzare chi della piazza vuole fare altro. Comandante, le modalità operative di questo presidio qui in Piazza Risorgimento? Sì, picco in presidio è un potenziamento dei controlli che questa piazza ha cercato di avere, l'amministrazione comunale si sta sforzando in questo senso e noi ovviamente facendone parte diamo un contributo. Più che presidio sono dei controlli che dalle 5 di pomeriggio fino alle 20, al netto ovviamente degli interventi che vengono richiesti dalla viabilità ordinaria, dall'antinfortunistica con le pattuglie, cercheremo di adottare per un buon periodo di primavera su piazza Risorgimento per dare delle risposte che i cittadini si attendono. Avremo un paio di pattuglie, due pattuglie sette giorni su sette e ovviamente cercando anche di capire e modulare l'intervento in base all'andamento della pandemia. Tutto questo sarà possibile grazie anche alle risorse che riusciamo a mettere in campo.